41 aziende pesaresi finiscono nel mirino della Guardia di Finanza per il rischio del cosiddetto fenomeno fraudolento apri-chiudi. 41 individuate nei primi tre mesi del 2024 per le quali è stata avanzata dall'Agenzia delle Entrate Provinciale la richiesta di chiusura delle relative partite IVA in quanto non attive. L'attenzione dei finanzieri pesaresi è stata canalizzata soprattutto nel settore del tessile abbigliamento. Gli approfondimenti sono stati eseguiti con accertamenti di polizia economica e finanziaria fra sopralluoghi presso le sedi legali e i luoghi di esercizio dichiarati, incrocio delle informazioni contenute nelle banche date e fatturazione elettronica. Il risultato è stato quello di una individuazione di decine di partite IVA riconducibili a imprese inattive o dormienti. Constatata l'inesistenza di qualsiasi attività economica nelle ultime annualità e in diversi casi anche l'irreperibilità del titolare d'azienda, è stata avviata la procedura d'ufficio di chiusura delle partite IVA a rischio di finalità illecite quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, il trasferimento di proventi all'estero o il mancato pagamento di imposte e contributi.